questo è un po' di due con questo hai giusto il cuoco vale questo è il cuoco 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 lo faccio a fio non so com'è venuto non ho fatto il cuoco va è il cuoco è il cuoco è difficile non lo faccio non lo capisco ma lo faccio è l'all cérebro non lo faccio il cuoco è quindi è l'attacco Grazie.